Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quarta. L'idiglio di Rue Plumet e l'epopea di Rue Saint-Denis. Libro dodicesimo. Corinto. Capitoli terzo, quarto, quinto e sesto. Capitolo terzo. Cominciano a calare le tenebre su Gran Terre. In effetti, il posto era singolarmente adatto. L'entrata della via era aperta a campana. Il fondo si restringeva come un vicolo cieco. Corinto. Vi formava una strozzatura. La Rue Mondetour era facile da sbarrare da destra e da sinistra. Non era possibile attaccare se non dalla Rue Saint-Denis, cioè di fronte e allo scoperto. Busse, brillo, aveva avuto il colpo d'occhio di Annibale Sobrio. All'irruzione della folla, la paura aveva assalito tutta la via. Non c'era passante che non si fosse eclissato. In un lampo, in fondo, a destra, a sinistra, botteghe, officine, portoni, finestre, persiane, abbaini, imposte di tutte le dimensioni, erano stati chiusi dai marciapiedi fino ai tetti. Una vecchia, atterrita per attutire la fucileria, aveva sistemato un materasso davanti alla finestra, con due pali per stendere la biancheria. La casa della taverna era la sola rimasta aperta, per la buona ragione che vi aveva fatto irruzione la folla. «Oh Dio mio! Dio mio!» sospirava mamma Ushlup. Busse era sceso incontro a Courferac. Jolie, che si era messo alla finestra, gridava «Courferac, avresti dovuto prendere un ombrello, ti beccherai un raffreddore!» Nel frattempo, in pochi minuti, venti sbarre di ferro erano state staccate dalla grata della vetrina della taverna. Dieci tesi di strada erano state disselciate. Gavroche e Baurel avevano afferrato, mentre passava e rovesciato, la carretta di un fabbricante di calce, un certo Anso, che conteneva tre barili pieni di calce, che essi avevano sistemato sotto le pile di pietre. Enjolra aveva tolto la botola della cantina e tutte le botti vuote di mamma Ushlup erano andate a rinforzare i barili di calce. Feilly, con le mani avvezze a miniare le delicate lame dei ventagli, aveva puntellato i barili e la carretta con due massicce pile di pietre, messe alla rinfusa, come tutto il resto, e prese non si sa dove. Alcune travi di sostegno erano state staccate dalla facciata di una casa vicina e messe di lungo sulle botti. Quando Bossuet e Courfeyrac si girarono, metà della via era già stata sbarrata da un bastione più alto di un uomo. Non v'è nulla che guagli l'abilità manuale del popolo nel costruire tutto ciò che si costruisce demolendo. Zuppa di pesce e Fricassea si erano unite ai lavoratori. Fricassea andava e veniva carica di rottami. La sua stanchezza aiutava la barricata. Serviva pietre come avrebbe servito il vino, con un'aria addormentata. In fondo alla via passò un omnibus, tirato da due cavalli bianchi. Bossuet scavalcò le pietre di corsa, fermò il cocchiere, fece scendere i passeggeri, porse la mano alle signore, congedò il conducente e tornò con la vettura e tenendo i cavalli per le briglie. Gli omnibus, disse, non passano davanti a Corinto. Non licet omnibus, a dire Corintum. Un attimo dopo i cavalli liberati vagavano per Rue Mondetour e l'omnibus, coricato sul fianco, completava lo sbarramento della via. Mamma Hushlup, sconvolta, si era rifugiata al primo piano. Aveva lo sguardo perso e guardava senza vedere, gridava a bassa voce. Le grida, spaventate, non osavano uscirle dalla strozza. «È la fine del mondo!» mormorava. Jolie diede un bacio al collo grosso e rugoso di Mamma Hushlup, dicendo a Grand Terre, «Caro mio, ho sempre considerato il collo di una donna una cosa infinitamente delicata!» Ma Grand Terre aveva ormai raggiunto le più alte regioni del ditirambo. Zuppa di pesce era risalita al primo piano. Grand Terre l'aveva afferrata per la vita e dalla finestra lanciava lunghe risate. «Zuppa di pesce è brutta!» gridava. «Zuppa di pesce è la bruttezza fatta a sogno! Zuppa di pesce è una chimera! Ecco il segreto della sua nascita! Un pigmalione gotico che scolpiva creature mostruose per i doccioni delle cattedrali. Un bel mattino si innamorò di una di esse, della più orribile. Supplicò l'amore di animarla e salto fuori Zuppa di pesce. Guardatela, cittadini, ha i capelli color cromato di piombo, come la donna di Tiziano, ed è una brava ragazza. Vi dico che combatterà bene ogni brava ragazza, ha un eroe dentro. Quanto a mamma Hushlup è una donna coraggiosa, guardate che baffia! Li ha ereditati dal marito, è proprio un'ussara. Combatterà anche lei. Tutte e due metterebbero spavento ai Fobur. Compagni, rovesceremo il governo. È vero come è vero che esistono 15 acidi intermedi tra l'acido margarico e l'acido formico. Del resto, per me è la stessa cosa. Signori, mio padre m'ha sempre detestato perché non potevo capire la matematica. Io capisco soltanto l'amore e la libertà. Sono Gran Terre, il bravo ragazzo. Non avendo mai avuto denaro, non ci ho fatto l'abitudine. Ecco perché non mi è mai mancato, ma se fossi stato ricco, non ci sarebbero più poveri. Si sarebbe visto. Oh, se i cuori buoni avessero borse grosse, come andrebbe tutto meglio. Mi immagino Gesù Cristo con la fortuna di un Rothschild. Quanto bene farebbe. Zuppa di pesce, abbracciatemi. Siete voluttuosa e timida. Avete guance che chiedono il bacio di una sorella. E labbra che reclamano i baci di un amante. Taci, spugna, disse Courfeyrac. Gran Terre rispose. Sono Scabino e maestro di giochi floreali. Enjolras, ritto sulla cresta dello sbarramento con il fucile in pugno, sollevò il bel volto austero. Enjolras, si sa, aveva qualcosa dello spartano e del puritano. Sarebbe morto alle Termopili con Leonida e avrebbe bruciato Drogheda con Cromwell. Gran Terre, vai a smaltire la sbronza fuori di qui. Questo è il posto dell'ebbrezza, non dell'ubriachezza. Non disonorare la barricata. Queste parole, dette con rabbia, produssero un singolare effetto su Gran Terre. Si sarebbe detto che avesse ricevuto un bicchiere d'acqua fredda sul viso. Pareva si fosse ripreso di colpo. Si sedette. Si sistemò ad un tavolo vicino alla finestra. Guardò Enjolras con inesprimibile dolcezza e gli disse «Lasciami dormire qui. Vai a dormire da un'altra parte», gridò Enjolras. Ma Gran Terre, fissandolo sempre con i suoi occhi teneri e torbidi, rispose «Lasciami dormire qui fino alla morte». Enjolras lo osservava con sguardo indignato. «Gran Terre, tu non sei capace di credere, di pensare, di volere, di vivere e di morire». Gran Terre ribatte con voce grave «Vedrai». Balbettò ancora qualche parola incomprensibile. Poi gli cadde pesantemente la testa sul tavolo e, cosa abbastanza comune nella seconda fase dell'ubriachezza, in cui Enjolras l'aveva rudemente e bruscamente spinto, un istante dopo si era addormentato. Capitolo IV Tentativo di consolazione della vedova Huchlup Baurel, estasiato dalla barricata, gridava «Ecco la strada con una bella scollatura, come sta bene!». Kurfeirac, pur continuando a demolire la taverna, cercava di consolare la vedova ostessa. «Mamma Huchlup, non vi lagnavate l'altro giorno che vi avevano notificato un processo verbale e una contravvenzione perché Fricassea aveva sbattuto uno scendiletto dalla finestra? Sì, mio buon signor Kurfeirac, ah mio Dio, metterete anche quel tavolo là nel vostro orrore. Anche per un vaso di fiori che era caduto in strada, il governo, come per il tappeto, mi ha preso cento franchi di multa. Se questa non è un'infamia...» «Bene, mamma Huchlup, vi vendicheremo!». Mamma Huchlup, in quella riparazione che le veniva concessa, non riusciva a capire bene quale fosse il suo tornaconto. Era soddisfatta come quella donna araba che, dopo aver ricevuto uno schiaffo dal marito, andò dal padre a lagnarsi, gridando vendetta e dicendo «Padre, devi restituire a mio marito affronto per affronto!». Il padre chiese «Su quale guancia hai preso lo schiaffo?». «Sulla guancia sinistra!». Il padre la schiaffeggiò sulla guancia destra e disse «Eccoti accontentata!». «Va a dire a tuo marito che lui ha schiaffeggiato mia figlia. Io ho schiaffeggiato sua moglie». La pioggia era cessata. Nuove reclute erano giunte. Alcuni operai avevano portato sotto i camiciotti un barile di polvere, un paniere con dentro bottiglie di vetriolo, due o tre torce da carnevale, un cesto pieno di lampioncini avanzati dalla festa del re, festa recentissima che aveva avuto luogo il primo maggio. Si diceva che quelle munizioni venivano da parte di un droghiere del Faubourg Saint-Antoine, un certo Pepin. Venivano fracassati l'unico lampione di Rue de la Chantrerie, la corrispondente lanterna di Rue Saint-Denis e tutte le lanterne delle vie lì attorno, di Mont-de-Tour, del Signe, dei Précheurs e delle grandi e petite Troanderie. Enjolras, Conferre e Courfeyrac dirigevano tutto. Ora venivano costruite contemporaneamente due barricate, appoggiate entrambe alla casa di Corinto, a formare un angolo retto. La più grande chiudeva Rue de la Chantrerie, l'altra chiudeva Rue Mont-de-Tour dalla parte di Rue du Signe. Quest'ultima barricata, strettissima, era costruita soltanto con barili e pietre del Selciato. C'erano all'incirca 50 lavoratori, una trentina dei quali, armati di fucile, poiché, strada facendo, avevano requisito in blocco una bottega d'armaiolo. Non c'era nulla di più bizzarro ed eterogeneo di quella truppa. Uno aveva una giubba corta, una sciabola da cavalleria e due pistole da sella. Un altro era in maniche di camicia, con un cappello a cilindro e una fiaschetta di polvere da sparo appesa a un lato. Un terzo era corazzato con nove fogli di cartaccia grigia e armato di una lesina da sellaio. Ce n'era uno che gridava «Sterminiamoli fino all'ultimo e moriamo con le nostre baionette in pugno!» Ma non aveva la baionetta. Un altro sfoggiava sopra la finanziera la giberna della Guardia Nazionale con il coprigiberna ornato di questa iscrizione in lana rossa. Ordine pubblico! Moltissimi fucili che portavano il numero di legione, pochi cappelli, nessuna cravatta, molte braccia nude, qualche picca. Aggiungete poi a questo tutte le età, ogni tipo di volti, di giovinetti pallidi, di operai del porto abbronzati. Tutti si affrettavano e aiutandosi a vicenda discutevano delle varie possibilità. Che avrebbero avuto soccorsi verso le tre del mattino, che si era sicuri di un reggimento, che Parigi si sarebbe sollevata. Propositi terribili ai quali si mescolava una sorta di gioviale cordialità. Si sarebbero detti fratelli, ma non conoscevano neppure il nome l'uno dell'altro. I grandi pericoli hanno di bello che mettono in luce la fratellanza degli sconosciuti. Un fuoco era stato acceso nella cucina e vi si fondevano, in uno stampo per pallottole, cucchiai, forchette, tutta la posateria in stagno della taverna. E in mezzo a tutto questo si beveva. Le capsule e i pallini giacevano alla rinfusa sui tavoli, insieme ai bicchieri di vino. Nella sala del biliardo, mamma Hushlup, zuppa di pesce e fricassea, in modi diversi modificate dal terrore, per cui una era abrutita, l'altra sfiatata e la terza svegliata, strappavano vecchi stracci per fare filacce. Le aiutavano tre insorti, tra gagliardi capelluti, barbuti e baffuti, che sgarzavano la tela con certe dita da merciaia, che le facevano tremare. L'uomo, alto di statura, che Courfeyrac, Conferre e Enjolras avevano notato quando si era avvicinato alla folla, all'angolo di Rue de Bigliette, stava lavorando e rendendosi utile alla barricata piccola. Gavroche lavorava quella grande. Quanto al giovane che aveva atteso Courfeyrac a casa sua e che aveva chiesto del signor Marius, se n'era andato più o meno nel momento in cui era stato rovesciato l'omnibus. Gavroche, allegro e radioso, si era incaricato dell'organizzazione. Andava e veniva, saliva, scendeva, risaliva, faceva baccano e sfavillava. Sembrava essere là per incoraggiare tutti. Aveva un pungolo? Sì, certo. La miseria. Aveva delle ali? Sì, certo. La sua allegria. Gavroche era un turbine. Lo si vedeva senza posa, lo si sentiva sempre. Riempiva l'aria. Era dappertutto nello stesso tempo. Aveva una specie di ubiquità quasi irritante. Con lui non era possibile fermarsi. L'immensa barricata lo sentiva sulla groppa. Molestava gli sfaticati, eccitava i pigri, rianimava gli stanchi, spazientiva i pensosi. Ad alcuni metteva addosso allegria, ad altri coraggio, ad altri collera. Sempre in movimento. Punzecchiava uno studente, mordeva un operaio. Si posava, si fermava. Ripartiva, volava al di sopra del tumulto e dello sforzo. Saltava da questo a quello. Mormorava, ronzava. Mosca dell'immenso cocchio rivoluzionario. Infastidiva tutto il traino. Nei suoi braccini c'era il moto perpetuo e nei suoi piccoli polmoni il clamore perpetuo. Forza, ancora pietre, ancora botti, ancora materiali. Dove li prendiamo? Una gerla di calcinacci per tappare quel buco là. È proprio bassa la vostra barricata. Deve essere alzata. Metteteci di tutto, buttateci di tutto, piantateci di tutto. Sfasciate la casa. Una barricata è come il tè di mamma Jibu. Prendete. Ecco una porta a vetri. Questo fece esclamare ai lavoratori Una porta a vetri. E che vuoi che ce ne facciamo di una porta a vetri, tubercolo? Ercoli sarete voi, rispose Gavrosch. Una porta a vetri in una barricata è eccellente. Non impedisce di attaccarla, ma dà fastidi nel prenderla. Non avete mai fregato le mele sopra un muro su cui c'erano cocci di bottiglia. Una porta a vetri taglia i calli ai piedi delle guardie nazionali quando vogliono salire sulla barricata. Perdinci. Il vetro è traditore, camerati miei. Non avete la fantasia sciolta. D'altronde, era furioso per la sua pistola senza cane. Andava dall'uno all'altro reclamando «Un fucile! Voglio un fucile! Perché non mi date un fucile?» «Un fucile a te!» disse Conferre. «Toh!» rispose Gavrosch. «Perché no? Non ne ho forse avuto uno nel 1830 quando abbiamo litigato con Carlo X?» Injolra alzò le spalle. «Quando ce ne saranno per gli uomini ne daremo ai ragazzi!» Gavrosch si girò fieramente e rispose «Se sarai ucciso prima di me prenderò il tuo!» «Monello! Pivello!» disse Gavrosch. Un elegantone sperduto che gironzolava in fondo alla via fu un diversivo. Gavrosch gli gridò «Venite con noi, giovinotto!» «Eh, questa vecchia patria! Non facciamo proprio nulla per lei!» L'elegantone se la svignò. Capitolo V Preparativi I giornali del tempo hanno scritto che la barricata di Rue de la Chambragère quella costruzione quasi inespugnabile come la chiamavano raggiungeva l'altezza di un primo piano. Si sono sbagliati essa in realtà non superava l'altezza media di sei o sette piedi. Era costruita in modo tale che i combattenti potessero a seconda dei casi nascondersi o scomparire dietro di essa dominare lo sbarramento o anche scalarne la cresta per mezzo di quattro strati di pietre del selciato sovrapposte e sistemate all'interno a modi gradini. All'esterno il fronte della barricata formato da cataste di pietroni e botti tenuti insieme da travi e assi che si incastravano nelle ruote della carretta Anso e dell'omnibus rovesciato aveva un aspetto irto e inestricabile. Tra i muri delle case e l'estremità della barricata più lontana dalla taverna era stata praticata un'apertura sufficiente a lasciar passare un uomo in modo che fosse possibile uscire. Il timone dell'omnibus era stato sollevato e tenuto dritto per mezzo di corde e una bandiera rossa fissata a quel timone sventolava sulla barricata. La piccola barricata Mondetour nascosta dietro la casa della taverna non si vedeva. Le due barricate insieme formavano un vero fortino. Engelrat e Courferac non avevano giudicato opportuno sbarrare l'altro tratto di Rue Mondetour che apre attraverso Rue des Prechers un'uscita sui mercati perché volevano senza dubbio mantenere una possibilità di comunicare con l'esterno ritenendo improbabile un attacco dalla pericolosa ed difficile Ruelle des Prechers tranne quell'uscita rimasta libera che costituiva quel che Folard nel suo stile strategico avrebbe chiamato un budello pur tenendo conto dell'esigua fenditura praticata su Rue de la Chavrerie l'interno della barricata nella quale la taverna formava un angolo sporgente si presentava come un quadrilatero irregolare chiuso da ogni lato un intervallo di una ventina di passi separava il grande sbarramento dalle alte case che formavano il fondo della via in modo che si poteva dire che la barricata era addossata a quelle case tutte abitate ma chiuse dall'alto in basso tutto il lavoro fu eseguito senza interruzioni in meno di un'ora e senza che quel pugno di uomini vedesse spuntare un berretto di pelo o una baionetta i rari borghesi che ancora si avventuravano in quel momento della sommossa in Rue Saint-Denis lanciavano un'occhiata in Rue de la Chavrerie e alla vista della barricata acceleravano il passo terminate le due barricate issata la bandiera rossa venne trascinato un tavolo fuori della taverna e Courfeyrac ci salì sopra Enjogat portò il baule quadrato e Courfeyrac l'aprì era pieno di cartucce nel vedere le cartucce i più coraggiosi trasalirono e ci fu un attimo di silenzio Courfeyrac le distribuì sorridendo ognuno ricevette trenta cartucce molti avevano della polvere e cominciarono a prepararne altre con le pallottole che erano state fuse quanto al barile di polvere era su un tavolo a parte vicino alla porta e venne tenuto di riserva la chiamata raccolta che percorreva tutta Parigi non era cessata ma aveva finito per diventare soltanto un rumore monotono a cui nessuno badava più quel rumore ora si allontanava e ora si avvicinava con lugubri ondeggiamenti caricavano fucili e carabine tutti insieme senza fretta con solenne gravità Enjolras collocò tre sentinelle al di fuori della barricata una in rue Chambrerie la seconda in rue de Procheur e la terza all'angolo della petite Troinderie poi costruite le barricate assegnati i posti caricati i fucili piazzate le vedette soli in quelle vie terribili in cui non passava più nessuno circondati da quelle case mute come morte in cui non palpitava nessun movimento umano avvolti nell'ombra crescente del crepuscolo che iniziava in mezzo a quell'oscurità e a quel silenzio in cui si sentiva avvicinare qualcosa che aveva un non so che di tragico e di terrificante isolati armati determinati tranquilli aspettarono capitolo sesto l'attesa cosa fecero in quelle ore di attesa dobbiamo ben dirlo perché fa parte della storia mentre gli uomini fabbricavano cartucce e le donne filaccia mentre su un fornello ardente fumava una grande casseruola piena di stagno e di piombo fuso destinati allo stampo delle pallottole mentre le sentinelle vigilavano con le armi in pugno sulla barricata mentre senza distrarsi vigilava sulle vedette confer courfeyrac jean prouvert feilly busset joli baorel e qualche altro ancora si cercarono e si riunirono come nei giorni più tranquilli delle loro chiacchierate da studenti e in un angolo di quella taverna trasformata in fortezza a due passi dalla ridotta che avevano innalzato con le carabine innestate e cariche appoggiate allo schienale delle sedie quei bei giovani così vicini all'ora suprema si misero a recitare versi d'amore quali versi eccoli vi ricordate la nostra dolce vita quando eravamo entrambi così giovani e nel cuore non avevamo altro desiderio che esser giovani e ben vestiti quando aggiungendo la vostra età alla mia non contavamo in due quarant'anni e che nel nostro umile piccolo rapporto tutto anche l'inverno era primavera bei giorni Manuel era fiero e saggio Parigi si sedeva a santi banchetti Fuà lanciava la folgore e il vostro corpetto aveva una spilla dove mi pungevo tutto vi contemplava quando vi conducevo al prado a cena eravate così carina che le rose mi pareva si girassero e le sentivo dire lei è bella che buon profumo che ha e che capelli ondulati sotto la sua mantellina nasconde un'ala e il suo grazioso berretto è appena sbocciato vagavo con te stringendo il tuo morbido braccio i passanti credevano che l'amore affascinato avesse riunito nella nostra coppia felice il dolce mese di aprile col bel mese di maggio vivevamo nascosti contenti con la porta chiusa divorando l'amore buon frutto difeso la mia bocca non aveva ancora detto una cosa che già il tuo cuore aveva risposto la sorbona era un giardino bucolico dove t'adoravo dalla sera al mattino è così che l'anima innamorata applica la mappa dell'amore al quartiere latino oh piazza mobert oh piazza dauphine quando nel tugurio fresco e primaverile infilzavi le calze alla tua gamba sottile vedevo un astro in fondo alla soffitta lessi platone ma nulla mi rimase meglio di malebranche e di la mennè mi dimostravi la bontà celeste con un fiore che mi donasti io ti obbedivo tu m'eri sottomessa oh solaio dorato ti allacciavi vederti andare e venire fin dall'alba in camicia mirando la tua giovane fronte nel tuo vecchio specchio chi potrebbe mai perdere il ricordo di quei tempi d'aurora e di firmamento di nastri di fiori di veli e di sete in cui l'amore balbetta un gergo affascinante il nostro giardino era un vaso di tulipani e tu schermavi la finestra con una sottana prendevo la ciotola di terraglia e ti davo la tazza di porcellana e quelle grandi sventure che ci facevano ridere il tuo manicotto bruciato il tuo boa perso e quel caro ritratto del divino Shakespeare che una sera vendemmo per cenare io ero mendicante e tu caritatevole baciavo al volo le tue braccia fresche e tonde Dante in foglio serviva da tavola per mangiare allegramente un franco di castagne la prima volta che nel mio felice nido presi un bacio dalle tue labbra infocate quando tutta ne andasti spettinata e rossa rimasi pallidissimo e credetti in Dio ti ricordi le nostre felicità innumerevoli e quei fazzoletti tramutati in stracci oh quanti sospiri dai nostri cuori pieni d'ombra si sono involati verso cieli profondi l'ora il luogo quei ricordi di gioventù richiamati alla mente qualche stella che cominciava ad apparire in cielo la funebre tranquillità di quelle vie deserte l'imminente avventura inesorabile che si stava preparando davano un fascino patetico a quei versi mormorati a mezza voce nel crepuscolo da Jean Prouvert che l'abbiamo detto era un dolce poeta nel frattempo avevano acceso un lume nella barricata piccola e nella grande una di quelle torce di cera come si vedono davanti alle carrozze cariche di maschere che il martedì grasso si recano alla cotille quelle torce l'abbiamo visto venivano dal Faubourg Saint Antoine la torcia era stata sistemata in una specie di gabbia di pietre chiusa sui tre lati per ripararla dal vento e disposta in modo tale che tutta la luce cadesse sulla bandiera la via e la barricata restavano immerse nell'oscurità e non si vedeva altro che la bandiera rossa formidabilmente illuminata come da un'enorme lanterna cieca quella luce aggiungeva allo scarlatto della bandiera non so quale porpora minaccioso grazie a tutti